Visita del commissario dell'Asla Salerno Mario Iervolino all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il massimo dirigente dell'azienda di Vianizza ieri pomeriggio in Viale San Francesco ha parlato di lavori di risotturazione, personale carente e del servizio di emodinamica. Grazie ad una convenzione con l'ospedale Cardarelli di Napoli è stata scongiurata la chiusura notturna dell'attività salvavita. L'intesa è stata già fatta in convenzione con i Cardarelli per cui in convenzionamento con l'azienda ospedale della Cardarelli e quindi con l'unità cooperativa del professore Mauro. Accompagnato dal direttore sanitario Alfonso Giordano il commissario ha visitato i cantieri aperti e fatto un punto su quanti sono in ferie. Con l'ultimazione di alcuni lavori la condizione lavorativa e assistenziale dovrebbe migliorare. Il primo obiettivo è aprire, dopo un anno di chiusura e restyling, la rianimazione. La rianimazione è quasi del tutto ultimata così come anche la medicina generale. Riteniamo di dover attendere la settimana prossima l'arrivo degli arredi. Subito dopo passiamo ai collaudi delle attrezzature e riteniamo che per la fine di agosto-inizio di settembre si riapre la rianimazione e si inaugura la rianimazione. Per la medicina generale potrebbero essere un po' più brevi, ma contiamo di farlo contemporaneamente tutti e due. Rispetto alla carenza di personale il commissario Iervolino ha spiegato quali sono i fronti su cui si sta lavorando. Sugli infermieri dobbiamo ragionare su due binari. Il binario dei 130 aventi diritto alla mobilità che chiaramente sono soggetti per i quali è partita la raccomandata per il nulla osta. Questo dipende dal nulla osta dell'azienda che lascia. I tempi dipendono da questo. Mentre contemporaneamente abbiamo anche inviato una serie di telegrammi per un avviso pubblico a tempo determinato di otto mesi nell'amore della definizione di questi nulla osta da parte dell'azienda che potrebbero impegnare un po' più di tempo e quindi ci regoliamo per recuperare un po' di personale in questo modo. Oltretutto abbiamo anche, proprio alla fine settimana scorsa, fatto un'ulteriore delibera per l'assunzione di 20 OSS. Grazie a tutti.